gentili telespettatori buona giornata da fratelli d'italia francesco storace dice ma attenzione qualcuno capisca che il nemico non è salvini non c'è bisogno scrive che sui social fratelli d'italia polemizzi con la lega l'italia di domani avrà bisogno di matteo salvini e giorgia meloni insieme scrive il vice direttore del tempo francesco storace sul sito settecolli.it che osserva fratelli d'italia e nota come sui social ci sia molto livore in particolare più contro la lega che nei confronti della sinistra o dei grillini attacchi sguaiati di novelli affessionados si leggono certi uomini di cultura che si vede lontano un miglio che stanno lì a pregare per un posto in parlamento sgomitano per farsi notare secondo storace fratelli d'italia governerà con la lega e su questo non c'è ombra di dubbio la lega e fratelli d'italia e anche forza italia sono indissolubili il legame ci deve essere per forza se no non vanno a governo se non sono uniti non possono governare su questo non c'è dubbio sono forze molto simili con dei leader carismatici e forti meloni salvini e berlusconi sono tre leader carismatici e forti e quindi nessuno accetterà di essere sottomesso all'altro però dovranno accettare quello che è il gioco dei numeri il partito alla data delle elezioni che avrà più voti anche un solo voto in più sarà il capo della coalizione gli altri dovranno fare i ministri i vice questa è la realtà dovranno essere uniti però naturalmente adesso anche se saranno uniti c'è una guerra tra i due partiti anche se è una guerra col sorriso ma c'è una guerra perché è ovvio e fratelli d'italia al 18 e mezzo per cento e continua a salire matteo salvini sta tentando una risalita si vede che dal 23 va al 23 9 24 comunque sia ci sono ancora cinque punti e mezzo percentuali di distanza tra la lega e fratelli d'italia sono tanti però si sta assistendo a fratelli d'italia che guadagna ogni mese sale di mezzo punto quindi potrebbe in dieci mesi da qui alla data del dell'elezione del presidente della repubblica che potrebbe coincidere anche con l'accaduto del governo perché draghi magari va a fare il presidente della repubblica e esaurisce quello che deve fare vaccini e recovery plan fra dieci mesi se va avanti così fratelli d'italia potrebbe arrivare allo stesso livello di matteo salvini però c'è da dire che se questo mezzo punto percentuale che ogni mese fratelli d'italia guadagna lo toglie alla lega allora quei dieci mesi diventano diventano la metà un conto è se la lega è ferma e fratelli d'italia sale di mezzo punto al mese ma se questo mezzo punto comporta una discesa della lega allora i dieci mesi diventano cinque quindi in cinque mesi potrebbe fratelli d'italia tra i cinque dieci mesi essere a livello della lega e questo provoca inevitabilmente livore c'è l'elettorato di salvini che parla male dell'elettorato di della della lei di fratelli d'italia quello di fratelli d'italia che parla male quello di salvini ma sono sempre gli stessi elettori che prima erano di qua poi di là poi di là poi di qua sono sempre gli stessi elettori che che praticamente si stanno si stanno intercambiando chi va di là chi va di qua chi rimane e così questa è la la realtà quindi secondo storace fratelli d'italia governerà con la lega una licenza dice che mi prendo da non iscritto ad alcun partito ma come elettore di centrodestra a me pare che salvini abbia fatto bene proprio alla coalizione senza assolutamente polemizzare ma fino a prova contraria chi esce distrutto dalla formazione del governo draghi sono pd e 5 stelle e questo è corretto alle prese con drammatici problemi interni eppure persistono atteggiamenti incredibili anche in persone solitamente posate educate persino rispettose vorrei dire lunedì sera il tempo pubblicato il consueto sondaggio di enrico mentana e ha notato l'aumento della lega fratelli d'italia che supera il pd 5 stelle in seconda posizione attitolato sul trionfo della lega che dopo un periodo di stasi ha ricominciato a salire nelle previsioni di voto ecco perché lo conosco dai tempi di previsioni di voto per quello che possono valere ebbene un deputato che considero un amico anche perché lo conosco dai tempi in cui è presidente della regione e lui sindaco del suo bellissimo comune ha reagito male a quel post sia pure privatamente se salvini va bene serve a tutta la coalizione il ragionamento di storace quasi dandoci dei faziosi perché non valgono tutte le volte in cui informiamo correttamente sui risultati di fratelli d'italia di giorgia meloni per quella notizia gli ho risposto dice che mi aspettavo i complimenti per aver informato i lettori anche del crollo del pd no a lui non andava giù l'affermazione della lega dovevate scrivere semmai triunfo del centrodestra no semmai potremmo scriverlo la prossima volta perché la lega era un più 0,1 per forza italia altrettanto per fratelli d'italia meno 0,2 somma 0 dunque ma non lo abbiamo scritto perché i dati fluttuano ma colpisce appunto dice storace il nervosismo parliamo di crescita decrescita di 0,1 e dice proprio così politici di un certo spessore che sono sul sul chivalà e ogni frase scritta su un giornale la polemizzano si arrabbiano proprio perché c'è questa tensione latente sotto i sorrisi questa tensione appunto tra fratelli d'italia e la lega ma dovranno governare insieme e con forza italia quindi è inutile prendersela nel senso che l'elettorato si sposta si sposterà in questi mesi e dipenderà da come si sviluppano le cose come va avanti questo governo se salvini riesce a prendere piede se va a scontrarsi con con draghi più le cose vanno male per questo governo più se ne avvantaggerà giorgia meloni se le cose vanno sempre meglio per questo governo su giorgia meloni piano piano si possono spegnere anche i riflettori e quindi avere un'inversione di tendenza fratelli d'italia che si ferma e la lega magari che recupera ecco ci sono diversi scenari dovremmo vedere quello che succederà in questi mesi da qui all'elezione del capo dello stato avremo delle belle sorprese nei sondaggi vedremo che cosa succederà io intanto vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook in instagram nell'altro canale di youtube tele italia seconda rete il video di tele italia seconda rete tele italia poi vengono tutti messi su facebook indifferita di qualche ora grazie per avermi ascoltato e ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video arrivederci a tutti ciao ciao Grazie.